Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, anche se oggi più che una lezione sarà una riflessione personale che sono sentito di fare quando mi è stato chiesto un tutorial della linea di basso di O Forse Sei Tu di Elisa la canzone che è stata portata a Sanremo, che fa parte di un album bellissimo che è uscito in questi giorni per questo tutorial do la parola al mio collega, stimato collega e amico Carlo vi metto tutti i link qui, che ha già fatto lui una lezione dedicata alla parte di basso di questo brano quindi fare una brutta copia del lavoro del mio caro amico mi sembrava inopportuno e anche inutile quindi vi metto tutto qui sotto però non so poi chi vedrà questo video, se lo vedrà qualcuno, se interesserà qualcuno volevo fare una riflessione personale sul brano in questione, non a livello di basso ma a livello di, diciamo, di arrangiamento, di composizione, di... vedremo tra poco allora io, qualcuno di voi lo sa già, sono stato, sono fan di Elisa, per cui anche se Sanremo io non lo seguo forse da quando lo vinse lei, appunto, lo presentava Raffaella Carrà nel 2001 per forza di cose quest'anno, appunto, per la sua partecipazione, diciamo che non l'ho seguito del tutto ma insomma, venivo avvisato quando c'era lei perché? Perché la seguo da una vita da quando venne fuori con... non ricordo ero un ragazzino, ma la vidi per la prima volta in un concerto a... cioè, in una canzone al concerto del primo maggio, credo del 97-98 lui portò il labirint e dissi, scusate il termine, cazzo, chi sono questi? io da buon curiosone, quale sono, che a quei tempi non c'era... almeno io non avevo internet, che ora... e clicchi, Elisa, chi è? e ti dà tutto a quei tempi funzionava un po' più che... andavi magari a comprarti il disco chiedevi qualche formazione e poi piano piano, insomma, ti... ti acculturavi, ecco, diciamo così e quindi la scoprivi lì e da lì non ho mai smesso di seguirli anche se poi, onestamente dopo aver anche visto tantissimi concerti, eccetera negli ultimi anni diciamo che l'ho seguita un po' meno per gusti miei musicali un po' lontani da quello che è stata la sua musica più recente nonostante io non mi permetterei mai di criticare lei, le sue scelte e la sua musica quindi, semplicemente gli ultimi dischi che giustamente sono andati di pari passo, diciamo, con i tempi pur mantenendo sempre la sua grandiosa identità musicale che ha quindi non nebrano, anche quello più... che sembra più banale c'è sempre dietro, ragazzi, ve lo dico da musicista anche se non sono famoso però un pochino di esperienza ce l'ho e vi dico che anche nei brani che a un primo ascolto sembrano più superficiali perché chi dice, eh, non è più Elisa di una volta io è sicuro che nei suoi brani ci sono sempre degli elementi particolari che siano nella melodia, nell'armonia nei suoni nell'arrangiamento, eccetera, eccetera quindi mi sono poi negli anni anni dopo ancora di più avvicinato a lei nel senso, ai tempi di quando aveva capelli corti diciamo così quindi tour soundtrack mi sembra si chiamasse scusate con i nomi non vado d'accordo perché da buon bassista come sapete tutti senza niente togliere a chi è venuto dopo che ignorantemente non conosco quindi assolutamente non mi permetto di parlare di chi ahimeno ancora non conosco non ho avuto modo di conoscere ma insomma entrare in confidenza con Max Gelsi molti di voi sapranno che Max è stato il bassista di Elisa credo per una quindicina d'anni correggetemi se sbaglio tant'è che un altro pregio che io un altro merito che vorrei sottolineare di quest'artista tra i tanti che ci sono è quello che grosso modo da quando ha iniziato da quando andava a Roxy Bar ragazzi non so se avete mai visto i primi video proprio di Elisa una ragazzina proprio che già cantava spaccava di brutto se ci fate caso nella band mi è venuto a mettere Roxy Bar perché l'ho rivisto di recente su YouTube c'era già suo marito quello che adesso è suo marito c'era Max Gelsi c'era Andrea Fontana e questa cosa quindi il gruppo storico poi Max è uscito ad esempio Fontana suona ancora con lei e tanti altri questo è un merito che io gli do perché portarsi tenersi dietro una band per così tanti anni qualche elemento subentrato qualche elemento è un po' più turnista diciamo c'è stato anche Franco Santarnè Kino Tour sono stati dei musicisti della Madonna comunque di base insomma il grosso sono loro e sono tutti ragazzi della stessa zona che hanno diciamo accompagnato quest'artista da quando era una ragazzina ha grandi successi allora cosa voglio dire anche voglio dire che il consiglio che vi do è di non limitarvi mai ai brani che hanno avuto più successo nella discografia ovvero possono essere singoli possono essere brani che magari sono stati passati di più per qualche motivo ma se ne avete voglia di andare ascoltare anche le canzoni meno famose vi faccio un esempio io una volta ho sentito il brano Lizard ragazzi c'è una parte finale che insomma descriverla è un po' difficile perché è praticamente una bomba atomica musicale incredibile questo è un esempio di tantissimi spesso appunto leggo delle critiche su di lei sulle sue scelte musicali e non anche a volte e vorrei nel mio piccolo con la massima tranquillità ci mancherebbe ricordare a queste persone che Elisa se fosse rimasta sempre ancorata ai suoni che aveva le sonorità allo stile che aveva nei primi due album dove comunque venne fuori con quel rock diciamo un po' all'Anis Morissette che in Italia mancava dai diciamo se fosse sempre rimasta lì nel giro di tre quattro cinque anni purtroppo sarebbe sparita perché la musica va avanti musica varia e lei è stata no brava di più a andare a stare sempre a passo con i tempi perché mi ricordo benissimo che ogni album che lei ha pubblicato ripeto gli ultimi li conosco un po' meno ma insomma fino a Heart Heart Scusate il mio anglete sono sempre in linea con i tempi quindi quando usci appunto il primo disco era in linea con la musica anzi era avanti con la musica che comunque c'era quel momento e fino appunto poi all'Anima Vola io poi dopo mi mi zittisco perché sono meno preparato in ogni album c'è sempre le canzoni poi possono piacere possono non piacere per l'amor di dio però non si può negare che è un artista che si è sempre messa in gioco rimessa in gioco e adeguata ai tempi questo lasciatemelo dire che oggettivamente è così poi che dire oltretutto io ho conosciuto lei in varie occasioni dopo i concerti una persona di quel livello che dopo i concerti io mi ricordo fece il tour nei teatri che c'erano 60 date di seguito 80 non ricordo e ci sono stato diverse volte perché capitava spesso in zona e ogni volta mi fermavo per salutare il mio amico Max Gelsi e lei in tutte le date era sempre disponibile dopo il concerto per foto autografi sempre sempre cordiale sempre sorridente se vedete anche nei suoi social è una persona estremamente semplice mai una parola di troppo anzi quando parla dice sempre cose importanti o comunque parla bene dei colleghi e questo è un vanto spaventoso per un artista è uscito sempre Mina al riguardo un artista del suo calibro non ha mai parlato male di nessuno ecco i grandi artisti fanno così non si è mai addentrata in discorsi politici che sinceramente ecco lasciamoli fare l'artista come giusto che sia cantata musicista la politica la politica lasciamola fare oddio forse la farebbe meglio ai politici comunque al di là di questo ha sempre partecipato a iniziative mi ricordo Amiche per l'Abruzzo tante altre anche durante il covid come si è comportato con la sua band con la sua con il suo staff quei concerti in cui il ricavato andava tutto a loro sono diciamo quelle cose che a me mi rendono ancora più orgoglioso di essere suo fan e mi rendono ancora più convinto di averti fatto lei a Sanremo anche se poi non ha vinto ma alla fine ragazzi io penso che un'artista che porta a Sanremo un arrangiamento del genere anche qui è stato detto sì ma non è più l'Elisa di una volta allora io vi faccio solo un esempio musicale di questo brano poi vi consiglio andare a ascoltare tutto l'album in questione poi mi fermo perché tanto se no divento lungo e noioso e vi voglio far sentire una curiosità probabilmente chi non è musicista non la capirà a fondo chi invece un pochino mastica di musica si potrà far caso a questa cosa che è subito la prima frase sua della melodia che fa così allora quando l'ho sentita la prima sera la prima sera parte la sua intonazione perfetta ragazzi veramente allucinati poi sono uno che sull'intonazione purtroppo fortunatamente ci faccio subito caso e lei non sbaglia ancora a questo proposito a questo proposito volevo anche poi mi vengono mette tutte insieme scusate voglio consigliarvi di ascoltare il suo duetto con vocelli della voce del silenzio ecco fatemi questo piacere e poi commentate se vi va sotto tanto vi metto tutti i link così non spero di non violare copyright assolutamente allora fatto questo allora lo spiego in termini semplicissimi un accordo maggiore primo accordo che fa il pianoforte l'accordo successivo è minore che sarebbe questo scusate va praticamente per farvela breve quando io senti questa nota dissi cavo sembra quasi una dissonanza perché in realtà nel pop diciamo sulle tonalità maggiori in questo caso abbiamo un re maggiore il sol per una serie di motivi armonici che ora non sto ad entrare nei dettagli sarebbe di regola maggiore l'è inserito un accordo minore e ci suona questa nota questo che non fa parte della scala di re maggiore quindi vabbè poi ho capito ho esaminato l'armonia di questo brano perché volevo capire meglio e per dirvela in termini molto 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 semplici è riuscita a rendere pop un'armonia che potrebbe essere benissimo di un brano di musica classica di jazz perché ha degli elementi dentro paurosi questo significa essere dei geni musicali e significa che che sai rendere orecchiavile a tutti anche qualcosa di veramente complicato non complicato da fare da suonare complicato da comporre quindi tanto di cappello chissà mai chi vedrà questo video comunque io non posso che quasi inchinarmi a quest'artista e ovviamente parlo di lei ma cito Rigonat cito insomma i suoi più stretti collaboratori e gli faccio degli auguri strepitosi che dopo questi 25 anni di carriera ne vengano fuori tanti altri con ancora maggior successo perché come disse una volta Renato Zero non so se disse proprio queste parole ma tipo con te il mondo è un po' meno brutto qualcosa del genere lo disse in concerto e quindi anche secondo me con Elisa tante cose sono più belle e ci dà emozioni indescrivibili quindi ragazzi mi fermo qui spero di non avervi annoiati spero di aver detto cose giuste correggetemi tutti gli errori commentate parliamone tranquillamente e andate a sentirvi quei link che vi metto oltre a i bassisti al tutorial di Carlo che metterò il link anche di lui quindi se mai vedrà questo video non credo proprio comunque Elisa sei forte veramente sei veramente una delle artiste italiane più complete più 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 belle proprio in tutti i sensi insomma ragazzi concludo qui e chi mi segue ci vediamo al prossimo video un po' Grazie.